Ciao a tutti! Nuovo video nel quale proviamo insieme strani oggetti di bellezza e oggi ragazzi aiuto, ci sarà davvero da ridere, vi dico così perché in realtà io ho appena finito di filmare il video che voi state per vedere, quindi non vi anticipo altro, vi lascio direttamente al video e partiamo con lo smalto spray. Questo è lo smalto spray in questione, dietro in tutte le lingue del mondo praticamente c'è scritto pericolo, pericolo, pericoloso, infiammabile, tenere fuori dalla portata dei bambini, bla bla, ma non dicono come utilizzarlo, allora io per sicurezza magari una base unghie la vado a mettere, dopodiché immagino vada shakerato perché questo all'interno, sentite, ha questa pallina. Boh ragazzi io non l'ho mai utilizzato, come potete vedere dovrebbe essere un grigio, c'è scritto silver party, magari lo spruzzo prima sulla carta, vedete ho messo tutti i foglietti a protezione, oh oddio, cioè morale della favola ragazzi non toglierò mai più i glitterini dalle mie unghie, magari lo faccio solo su un'unghia, ecco. Ah, ma è freddissimo, ma siamo matti, ma cos'è sta roba, ragazzi ma è congelato, cioè fa quasi male, ma cos'è, aia, sì ovviamente questi glitterini entreranno nelle mie cuticole per non uscirne mai più, che puzza, dovrebbe asciugarsi secondo voi, provo un'altra unghia, mi massacro proprio in questo modo. Ah, no 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 ragazzi ma è freddo, è freddo, è freddo, è troppo freddo, aia, no ragazzi, cioè vi giuro fa male, ora non so se va tenuto a più distanza, in tutto ciò si è anche quasi asciugato, non procedo sulle altre unghie perché questa ve lo giuro me l'ha surgelata, cioè è surgelata, ora non so se ho sbagliato qualcosa ma qui dietro c'è almeno, ah, c'è un'etichetta doppia che io, ah, c'era il segreto, io non l'avevo visto, c'erano le istruzioni, andrebbe tenuto il flaconcino in verticale, poi dice proteggere la superficie al di sotto della vostra mano, sì ma se la mia mano è così, quale superficie c'è al di sotto della mia mano, scusatemi non capisco, dovrebbe essere almeno a 20 cm di distanza, quindi immagino questa distanza, io voglio provare ma, uh, uh, cioè, come fai ad arrivare alla tua unghia, questa distanza, e comunque continua ad essere freddo vi giuro, bisogna poi aspettare che si asciughi, applicare un top coat e lavando le mani dovrebbe venire tutto via, quindi io spero che adesso andandomi a lavare le mani tutto questo venga via, ok ho lavato le mani con acqua e sapone, ok ho cambiato lo smalto per ovvi motivi, peraltro mentre cercavo di fare le cose velocemente si è anche già rovinato, quanto mi dispiace quando si rovina lo smalto appena messo, ma vabbè tralasciamo, tornando a questo vi devo dire che lavando le mani effettivamente dall'unghia non è andato via, anche se avrei dovuto applicare il top coat prima di lavare le mani, però sapevo che l'avrei tolto insomma, però volevo vedere effettivamente come andava via dalla pelle, per farlo andare via bene dalla pelle dovete un pochino strofinare con l'asciugamano, ma questo come per qualsiasi altro smalto, ovviamente non è andato via vicino alle cuticole, quindi lì sarebbe stato da intervenire con una penna con reggi smalto e comunque l'effetto non è mai preciso perfetto, quindi se magari uno da una parte può pensare di poter risparmiare tempo perché appunto è spray, dall'altra parte lo riperde poi per cercare di rifinire e riaggiustare un pochino la situazione, quindi secondo me comunque ragazzi a prescindere che io inizialmente l'ho utilizzato senza leggere le istruzioni, anche perché erano nascoste e non le avevo viste, ad ogni modo per me o no questo grigio comunque non macchiava, immagino un colore con dei pigmenti un po' più particolari come verde, rosso, insomma che penetrano bene, per quanto uno può andare poi a correggere rimarrà sempre la pelle macchiata, quindi secondo me ragazzi no, e poi comunque ragazzi ho un dito surgelato, passiamo oltre arriviamo al brown face palo, questo l'ho comprato su amazon per i baffetti, ragazzi se non venite dalle precedenti puntate dovete assolutamente andare a recuperare perché appunto questa è una serie di video, quindi è come se fosse una serie tv, non potete perdere le puntate precedenti perché in qualche modo sono sempre collegate, c'è sempre un filo conduttore, insomma chi ha già visto le altre puntate saprà che io sto cercando soluzioni alternative alla ceretta, tanto per i baffetti quanto per le sopracciglia, mi hanno consigliato questo che è il silk peel per i baffetti, io ho il silk peel peraltro, il mio silk peel è della brown, io non so da quanti anni posso averlo ed è ancora perfetto, probabilmente ero minorenne e attualmente ho 30 anni quindi ok vi ho detto tutto, allora vorrei aprirlo ma ho appena messo lo smalto, quindi se cerco di togliere la plastichina probabilmente non è una buona idea, quindi vi dico la verità, in passato visto che sono così tanti anni che ho quel silk peel ho provato ad utilizzarlo sui baffetti, male, ma un male, io vi sconsiglio di farlo con il silk peel, con la testina normale perché è devastante, ma viene anche la pochette ragazzi, ma che bellina, ma guardate quante cose, c'è anche una batteria di ricambio, peraltro dura c'è, c'è uno specchietto e immagino vedete c'è una linguetta da togliere, si illumina anche, vedete c'è un piccolo led qui, che carino, ah ingrandisce, oh ma è bellissimo questo specchietto ragazzi, quanto mi piace, e volendo si può tenere anche sul tavolo, ok già mi sta piacendo, già mi sta piacendo tanto, la confezione all'interno è così e ci sono anche altre testine come ad esempio quelle per pulire il viso, ma quindi questo si carica solo a batterie, non ha il filo, vabbè giustamente per fare qui quanto ci può volere, abbiamo qui il pulsantino per scegliere la direzione, una a destra, una a sinistra ovviamente per, tac, tac, ragazzi io devo fare effettivamente il baffetto, quindi non mi avvicino troppo con la telecamera perché non voglio che voi vediate la situazione attuale, ma abbiate fiducia in me, sarò onesta e sincera con voi se funzionerà o se non funzionerà, so che tutti li abbiamo i baffetti, i peli, bla bla, però insomma non credo che sia poi così carino ostentare i propri peli, quindi ragazzi lo faccio per voi, mi mantengo a distanza, proviamo, oddio che paura, dove lo sto mandando? Allora se io lo sto mandando di qua devo fare con tropello di qua, secondo voi? Ah no è delicato, si toglie, wow, io lo amo, ho trovato la soluzione, oh mio dio potrei piangere? Certo, guardate già comincia a lacrimare, è doloroso ed è comunque più doloroso della ceretta perché con la ceretta è uno strappo e avete finito, con questo invece dovete star lì ad aspettare che tiri il pelo, così come nelle gambe non sempre il peletto preso viene via subito, quindi magari dovete ripassare, però effettivamente va, funziona, li prende, insomma secondo me con questo io posso essere precisa e andare anche qui, un po' pericoloso, però, ah sì li prende, tipo ad esempio qui, wow, sta attenti a non prendere le proprie ciglia, no ragazzi è fantastico, e toglie anche i pelettini quelli più piccoli, ragazzi questo top promosso mi piace, fantastico, lo ricomprerei altre mille volte, adesso stavo sistemando tutto all'interno della pochettina e vedete con questo vengono insieme anche le testine per la pulizia del viso, ragazzi finalmente un buon acquisto, oh cade, finalmente un buon acquisto rompiamolo, questo mi spaventa, vuoi dire che cos'è quel pacchettino? Fondotinta, era tra i consigliati di Amazon, ho detto ma cos'è? È un quadernino con dei foglietti di fondotinta, peraltro, oddio il mio colore, potrebbe essere il mio colore, ok c'è anche l'inglese, ragazzi forse possiamo farcela, secondo loro un fogliettino dovrebbe bastare per tutto il viso, basta premere e sweep, cosa vuol dire? Premere e tirare forse? Traduttore, spazzare, spazzare, quindi devo premere e spazzare, all over the face, si sembra semplicissimo, non so, prendiamo un foglietto dal nostro libricino di fondotinta, cioè che se fosse funzionante e buono sarebbe la svolta ad esempio per quando si viaggia, quindi secondo loro io con questo foglio di carta dovrei riuscire ad applicare il fondotinta sul mio viso, cioè questo dovrebbe essere fondotinta, ah è fondotinta, allora ragazzi non ho sul fondotinta, ho solo il correttore in questa zona perché ero proprio inguardabile con rifinito un pochino le sopracciglia che ho dato un po' di mascara giusto per rendermi presentabile, forse è quest'altro lato, cioè l'ho messo, ragazzi io non capisco se ho messo sul fondotinta, sì, sì lo sto mettendo, cos'è? Ma non si mette niente, credo sia leggermente anche per lato perché si sta ritrovando, a meno che non sia ancora lo smalto di prima che mi ha lasciato il micro glitter ovunque, oh ragazzi io non vorrei essere polemica ma non credo di riuscire a fare tutto il viso con uno, non capisco qual è il lato, ah è questo qui, ok c'è questo lato che contiene il fondotinta, guardate il dito, premere e spazzare, questo è ciò che ne residua, ragazzi non chiedetemi come ne perché ma è tipo glow sulla pelle, cioè è tutto tipo satinato, allora toccando la pelle ho una sensazione tipo di pelle levigata, liscissima, il prodotto c'è, ora non è esattamente il mio colore come potete vedere, però poteva essere un prodotto interessante, potrebbe essere un prodotto interessante ma appunto non mi piace il fatto che abbia tutte queste perlescenze all'interno, sicuramente non va bene per chi ha molte imperfezioni sulla pelle perché come vedete non copre niente e io ho appena qualcosina eppure non lo copre, non minimizza i pori, io qui li ho dilatati e non li ho assolutamente minimizzati e ok che sono delle prime impressioni però applicandolo io non ho la sensazione di stenderlo in modo uniforme su tutto il viso, quindi ragazzi io direi a questo punto che mi strucco perché proviamo questa, ok mi sono struccata ragazzi vi devo dire ho fatto fatica a togliere tutto il fondotinta perché era tantissimo, ho usato un sacco di dischetti e continuavo a venirvi a colore, ma com'è possibile questa cosa? Comunque ragazzi adesso passiamo a lei che è la bubbling microfiber mask, ok ci sono due step, il primo step leggevo appunto è la maschera che agisce in soli tre minuti, qui sopra dice di applicarla con o senza makeup, ma come con il makeup? Ma che vuol dire con il makeup? E questa va tenuta solo per 2-3 minuti, peraltro questo è un brand anche molto conosciuto insomma, quindi dovrebbe esserci il lato detox e il lato idratazione, dovrebbe fare le bollicine, ok intanto vi posso dire che è un bellissimo tessuto, io guardo sempre al tessuto delle maschere, peraltro ragazzi ho lavato ieri i capelli quindi adesso li risporcherò, magari sul naso il detox lo voglio grazie, scusami ma io ti metto, oddio devo contare i minuti, ho le mani sporche, ehi siri, imposta sveglia tra 3 minuti, ho impostato una sveglia per le 5-12 di pomeriggio, grazie, lo so sono 3 minuti, lo so io, wow che bella ragazze ma ce n'è tanta di schiuma qui, guardate, è carinissimo, ha un profumo pazzesco vi posso dire, ha veramente un ottimo un ottimo profumo, dopodiché io la dovrò rimuovere, sciacquare il viso e asciugare e applicare l'altra maschera, quindi dovrei avere una pelle tipo da bambina, e devo dire sta anche su, cioè sta al suo posto, non è una di quelle maschere che scendono, andiamola a togliere, piena 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 di schiuma, ce ne ha tantissima su, ragazzi ho una sensazione sulla pelle bellissima, la sento tipo iper pulita, liscia, morbida, arriva quindi il momento di applicare la maschera quella idratante, uh quanto prodotto, c'è tantissimo prodotto dentro, ma proprio tanto, sta colando, guardate, cola, oh che bella, sensazione, oh mio dio, ora capisco perché lo chiamano così, OMG, collo, ragazzi adesso perché sto facendo il video altrimenti questa l'avrei tenuta su ad oltranza, ehi Siri, imposto a sveglia tra 20 minuti, la sveglia è impostata per le 5.37 di pomeriggio, grazie, ehi Siri, come stai? meravigliosamente, fa piacere, ottiono i capelli, ok in queste situazioni, oltre che parlare con Siri, io generalmente prendo una tisana, ma no ragazzi questo siero è qualcosa di meraviglioso, io la metto sulle mani perché è meraviglioso, ragazzi io già da ora penso di potervi dire che questa la promuovo, devo trovare il modo di reperire queste maschere, non vi nego che potrei parlare tranquillamente per 20 minuti non stop e anche di più volendo, ma spengo un attimo qui perché altrimenti vi viene un video eterno, ok è giunto quindi il momento di andare a rimuovere questa maschera, anche se mi dispiace tantissimo perché c'è ancora tanto 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 prodotto, però io dopo questo video devo filmare un altro, ma ragazzi si dà appena proprio applicata, già proprio la fragranza che non ha un profumo portante insomma di quelli anche fastidiosi volendo, ha una profumazione delicatissima, gradevole ed è una sensazione davvero molto 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 bella, cioè ragazzi io questa potrei strizzarla, cioè vi faccio sentire vicino al microfono, per farvi capire quanto prodotto può avere ancora all'interno, se sul web vi capita di trovare degli oggetti di bellezza un po' strani vi va, potete sempre segnalarmeli nei commenti così ci facciamo quattro risate insieme insomma che ho visto che questa serie di video vi piace molto, niente comunque questo è tutto, vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao!